Residenza digitale di Palau, un programma rivoluzionario per l'era Web 3. La Repubblica di Palau è il primo paese sovrano al mondo ad autorizzare un programma di residenza digitale nativo sulla blockchain. Il programma di residenza digitale di Palau offre ai cittadini di tutto il mondo la possibilità di ottenere comodamente da casa un documento di identità legale emesso dal Governo, sia in formato fisico che digitale, sulla blockchain. Per ulteriori informazioni o per procedere visitate rns.id. Grazie a tutti!